Il mio non è un canale formativo, non ho la pretesa che chi guarda i miei video poi sia in grado di uscire spento YouTube, spento lo smartphone e possa dire ora ho le competenze per andare a montare un impianto Il mio è più un canale divulgativo, condivido insieme con voi esperienze e inesperienze che ho avuto in modo da creare una specie di traccia in modo che una persona che come me intraprende il lavoro senza magari aver fatto la giusta gavetta prima abbia, non lo so, strumenti per dire ah esiste questo, ah esiste quello Inevitabilmente facendo divulgazione si affrontano argomenti che per la persona esperta potrebbero sembrare banali Tra le varie banalità mi viene oggi da parlarvi di una cosa che ho notato e che io davo per scontata devo dire la sincera verità e che invece per alcuni installatori non lo è Qui da noi vanno molto le centrali con la ricevente a radio a bordo per essere compatibile con periferiche via radio, tastiere, sensori, sirene Questo succede perché abbiamo molti appartamenti piccoli gli impianti dai 5 ai 10 sensori sono piuttosto comuni, piuttosto frequenti e quindi effettivamente anche una centrale con la ricevente a bordo si presta bene a questo tipo di lavoro In questa singola settimana che è appena trascorsa due installatori diversi mi hanno chiamato dicendomi che con centrali tra l'altro di marche diverse avevano problemi di copertura radio rispetto ad alcuni sensori Uno dei due impianti che ho venduto era piuttosto distante ma l'altro era a poche centinaia di metri da qua e ho deciso di andare a vederti persona Se c'è una cosa che è nemica della nostra professione è l'abitudine Noi siamo abituati a quella centrale, siamo abituati a quella tastiera, siamo abituati a quel prodotto e lo usiamo sempre, 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 senza ragionare nel contesto Mi è andata bene 20 volte vuol dire che va bene per sempre e invece questo non è vero Nel caso specifico qual era il problema? Il problema è che questa centrale era stata correttamente installata in un luogo abbastanza inaccessibile cioè la cantina Ma è chiaro che una centrale con la ricevente radio a bordo va messa in un posto, sì nascosto ma testualmente, permetta alla radio di ricevere bene quindi che sia più o meno equidistante da tutte le periferiche di via radio È chiaro che in questo caso le periferiche all'ultimo piano di questa villetta non potevano funzionare bene Era già un miracolo che funzionassero Una centrale con la ricevente radio a bordo, proprio perché ha la radio a bordo va messa in un posto dove la radio può prendere bene in un luogo quindi che sia studiato con un minimo di cervello Qual è la soluzione? Rinunciare al buon senso di nascondere la centrale all'arma? Neanche per idea Esistono centrali che magari hanno la radio a bordo ma che contestualmente sul bus delle periferiche possono avere un secondo ricevitore radio per andare a potenziare il segnale laddove non ci sia la possibilità di riceverlo con la radio principale oppure centrali senza la radio a bordo che però permettono questa cosa qui cioè l'installazione di più riceventi sempre sul bus per poter dare una copertura radio perfetta Non deve essere mai l'abitudine a guidare la scelta del prodotto da offrire al nostro cliente ma un'attenta pianificazione del nostro lavoro Spesso e volentieri bastano pochi dettagli per poter correggere il tiro però è inutile castrarsi con una centrale chiusa laddove non siamo sicuri che questa possa andar bene piuttosto meglio stare un pedino più comodi col preventivo e poter cambiare o aggiungere in corso d'opera se poi non fosse necessario avremmo guadagnato qualcosa di più Una centrale con radio a bordo si presta per installazione laddove le periferiche radio saranno più o meno equidistanti dalla centrale stessa Se non siete sicuri di questo o se la centrale deve lavorare con periferiche situate su più livelli approdate ad un prodotto anche della stessa marca ma che vi permetta eventualmente di aggiungere riceventi radio esterni Ciao